Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Hi everyone and welcome back to my channel! Nel video di oggi voglio parlarvi di alcune app che dovete avere sul vostro cellulare perché vi saranno molto molto utili quando magari siete sull'autobus, siete sul treno, siete sul divano, ma comunque volete fare qualcosa di vagamente istruttivo. E allora ecco che queste app vi possono tornare molto molto utili. Queste che vedete sono le app che io ho sul mio cellulare, alcune di queste le uso anche io. Allora, partiamo da quelle più ovvie che già avete, forse, sul vostro cellulare e che probabilmente usate già. La prima è YouTube. Ovviamente YouTube vi può servire per imparare l'italiano in quanto su questa piattaforma potete trovare video di lingua, video di grammatica, vlog e anche altri tipi di video. Ho in mente di fare un video in cui vi consiglio degli youtuber italiani che anche io guardo. Se volete vedere questo video, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Andiamo avanti! La app successiva è italki. Questo è... non posso aprire l'app dal mio cellulare perché ci sono delle informazioni confidenziali che non voglio rivelare a tutti. Però italki è una piattaforma che molti di voi conoscono già, che vi permette di entrare in contatto con degli insegnanti, dei tutor madrelingua. Questa app vi permette anche di trovare nuovi amici. Potrebbe essere interessante darci un'occhiata. Lo stesso obiettivo di italki ce l'ha anche Tandem. Questa qui, questa qui sotto. Bene, devo creare un account, in realtà ce l'ho già l'account di Tandem, ma non mi ricordo le credenziali. Non fa niente. Comunque, Tandem è un'app solamente per trovare amici, solo per trovare amici italiani con cui parlare. Tandem è assolutamente gratuita, dovete solamente iscrivervi all'app. E addirittura uno studente mi ha mandato un messaggio dicendomi che quest'estate è venuto in Italia ad incontrare la sua amica italiana. L'app podcast, questi sono i podcast che ho scaricato, potete trovare dei podcast in italiano. È molto molto utile questa app, perché avete tutti i podcast italiani in un'unica app. Se cercate, c'è anche il mio podcast qui, eccolo! Però non capisco perché non si è aggiornata la copertina. Ma se volete conoscere altri podcast, io ho fatto dei video in cui vi consiglio alcuni podcast. Poi, stessa cosa con la app Libri. Qui voi potete avere la vostra libreria di libri in italiano, di ebook in italiano e potete anche andare sullo store, quindi sul bookstore, sul negozio e vedere dei libri in italiano. Ovviamente il mio bookstore è in italiano, però sicuramente se cercate dei titoli specifici, li troverete in italiano. E poi qui c'è anche la sezione audio libri, poi. A volte potreste avere bisogno di tradurre una parola, di tradurre delle frasi e quindi io vi consiglio la app Reverso Context. Come dice il nome, vi dà anche il contesto alla parola che volete tradurre. Quindi, per esempio, facciamo dall'inglese all'italiano, tavolo, no, table, eccolo. Qui ci sono innanzitutto le varie traduzioni. Table può essere in italiano tavolo, tabella, tavola. You're obsessed with that table. Ti stai ossessionando con la storia del tavolo, quindi vi dà anche un esempio di frase e potete ascoltarla. Tavolo. Ti stai ossessionando con la storia del tavolo. Poi, se invece volete avere un dizionario sul vostro cellulare, vi consiglio questo, dizionario italiano. Quando voi cercate una parola su questo dizionario, l'app va a cercare nel database di informazioni che ha. Quindi, per esempio, cerchiamo sempre tavolo, va a cercare le definizioni di vari dizionari. Quindi abbiamo Dictionaries, poi c'è il Collins, Italian Dictionary. Per altre parole c'è anche la risorsa dell'Accademia della Crusca, eccetera. E potete anche ascoltare la pronuncia anche qui. Tavolo. Questa app è gratuita. Se invece volete un dizionario un po' più, come dire, sostanzioso, un vero dizionario, c'è quello della Treccani. Nella versione gratuita sono disponibili solamente alcune parole. Per esempio questo, abbastanza, avverbio, oppure abbassare, verbo. Altrimenti, se volete altre parole, dovete acquistarlo. Il prezzo è davvero irrisorio. Questo costa 4,49€ per il dizionario della Treccani. È molto, molto poco, infatti ho intenzione di comprarlo. Un dizionario davvero utile, questo dizionario delle collocazioni. Quindi, l'app costa 9,90€, mentre il dizionario cartaceo costa, mi pare, 20, 25. Vediamo come funziona quest'app. Cerchiamo una parola per cui vogliamo trovare la collocazione. Quindi, per esempio, che verbo devo usare con desiderio? Allora, innanzitutto abbiamo una lista di tutti gli aggettivi che possiamo usare con questo nome, quindi noi possiamo dire un desiderio acuto, un desiderio ardente, un desiderio costante, un desiderio egoistico, eccetera. Poi, invece, per quanto riguarda i verbi, possiamo dire alimentare un desiderio, appagare un desiderio, assecondare un desiderio, avere un desiderio, nutrire un desiderio, soddisfare un desiderio, eccetera. Quindi, questi sono tutti i verbi che voi potete utilizzare con la parola desiderio. Quindi, con questo dizionario delle collocazioni potete veramente fare tantissime cose se per esempio avete un budget e potete spendere dei soldi solamente per un dizionario, senza esitazione comprate questo delle collocazioni. Poi, un giorno potrebbe venirvi un dubbio su come coniugare un verbo e allora usate questa app Verbi Italiani. Vi viene un dubbio su come coniugare il verbo salire, per esempio, al congiuntivo. Ecco, il congiuntivo presente. E qui lo avete. Io salga, tu salga, lui salga, noi saliamo, voi saliate, loro salgano. E possiamo anche sentire la pronuncia del verbo. Noi saliamo, voi saliate. Allora, qual è l'unico limite di questa app? È che ci sono solamente 500 verbi. Poi, abbiamo Memo vocali. Perché è utile questa app? Perché voi potreste registrare la vostra voce mentre parlate in italiano e riascoltarvi per vedere se vi piace come avete pronunciato una parola. È un ottimo strumento di autocritica e autoanalisi. L'ultima app di cui voglio parlarvi è questa Lyrics Training. Il nome si spiega un po' da solo, diciamo. Si tratta di una app che vi fa esercitare con i testi delle canzoni. Ad esempio, prendiamo questo di Mahmood, Rapide. Allora, potete scegliere se giocare alla risposta multipla oppure se fare il karaoke. Allora, se scegliete la risposta multipla, potete scegliere il livello principiante, intermedio, avanzato, esperto. Il livello esperto è un incubo perché dovete inserire tutte le parole che sono cantate e va abbastanza veloce. Quindi, diciamo, è più un esercizio di abilità che di comprensione. Però, per esempio, facciamo quello intermedio. Per esempio, scegliamo questa Delisa per fare il karaoke. Il karaoke sapete come funziona. Queste sono le 12 app di cui volevo parlarvi. E spero che troviate utile questo video. Spero che non conosciate già tutte queste app perché altrimenti questo video è assolutamente inutile. Ma comunque, no, spero che sia utile per qualcuno di voi, anche solo per una persona. Se conoscete altre app che per voi sono davvero utili e le volete condividere con tutti noi, sapete cosa fare? Lasciate un commento qui sotto. Grazie mille per aver guardato questo video. Ci vediamo nel prossimo, ciao! 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 Grazie.